L'esposizione. Come la faccio oggi l'esposizione? Devo guardare in camera per avere l'immagine corretta? La vedo già giusta sul display? Devo guardare l'esposimetro? Devo guardare la zebra? Devo guardare l'istogramma? Che cosa guardo per fare l'esposizione? Bentornati sul mio canale, amici. Oggi vi parlo di un argomento che mi è stato fortemente richiesto, ovvero in generale come si fa a esporre una ripresa, una foto che stiamo facendo, ma più in generale come si fa a esporre utilizzando l'istogramma. L'istogramma è uno strumento che conosciamo già perché è lì che sfarfalla, lo vediamo, ce l'abbiamo già presente, sappiamo che cos'è, purtroppo scompare quando premiamo il tasto REC, almeno sulle fotocamere e videocamere che uso io, scompare quando premo REC, quindi questo è seccante, però il concetto è semplicissimo, la ripresa deve essere già pronta quando io comincio a girare, la scena deve essere già fatta, quindi purtroppo non riesco a tenerlo visualizzato. Se qualcuno conosce qualche trucco per mantenerlo visualizzato me lo faccia sapere in un commento qui sotto, io non l'ho trovato, per quello che posso vedere io sto utilizzando Canon EOS R7, nel momento in cui io abilito la registrazione l'istogramma scompare e quindi non riesco a vederlo durante la mia ripresa, devo avere le mie luci già impostate nel momento in cui premo il tasto REC perché altrimenti non riesco più a fare correzioni on the fly. Quindi oggi andiamo a vedere come si utilizza l'istogramma per fare l'esposizione, in video successivi andremo a vedere come si può ovviare al problema di non avere più l'istogramma quando si fanno le nostre riprese e magari sono riprese dinamiche. Bene bene ma andiamo a vedere come funziona questo istogramma. Se io prendo la mia fotocamera o videocamera Canon, come potete vedere quello è il mio faccione, se andiamo a vedere il retro della nostra fotocamera qui abbiamo il bottone info, se io vado a premere il bottone info vedete che le schermate cambiano e se io continuo a premerlo prima o poi arriva una schermata dove c'è il mio famoso istogramma. Ora l'ho impostato io l'istogramma, se volete vedere come si imposta, vi linko qui sopra da qualche parte un video in cui vi faccio vedere come si impostano le schermate su Canon EOS R7, è uguale anche per Canon EOS R e credo un po' per tutte le fotocamere di Canon che ha rilasciato di recente, però ve lo lascio in descrizione perché lo spiego più nello specifico. Bene ora come potete vedere l'istogramma è così composto, vedete che abbiamo un picco, una sorta di montagnetta di roba bianca, questo picco rappresenta tutto il nero che c'è all'interno dell'inquadratura che state vedendo, quindi il nero che c'è qui, tutta quest'area scura è rappresentata da questo picco di nero molto pronunciato, mentre questa seconda montagnetta, questa qui più piccolina è la luce che viene proiettata sul mio viso. Come sempre non vi chiedo di credere a me, adesso io mi sposterò dalla ripresa e vedete che quello che succede in ripresa è che adesso abbiamo soltanto dei toni scuri, vedete cosa succede quando io introduco la mia mano che tornano fuori dei toni chiari, guardate che cosa succede se introduco una luce, vedete che improvvisamente abbiamo dei picchi, vedete? Chiaramente stiamo andando a perdere dei dettagli perché stiamo andando a bruciare dei pixel, non so se riuscite a vedere, nel momento in cui io introduco la mia luce in questo punto, quindi su questo lato, arriva un picco, un picco sul mio istogramma che mi segnala appunto che lì abbiamo una perdita di dettaglio. Quindi l'istogramma fondamentalmente che cosa fa, che cosa serve? È una distribuzione delle informazioni luminose che ci sono dentro nel nostro fotogramma ed è una rappresentazione che colloca i toni scuri sulla nostra sinistra, i mezzi toni al centro e i toni chiari le alte luci sulla destra. Ovviamente è una lettura non perfetta, noi non possiamo avere l'istogramma perfetto o avere la presunzione di stabilire che la nostra ripresa è assolutamente perfetta semplicemente guardando l'istogramma perché dipende da scena a scena, possono esserci delle differenze, la nostra camera può avere una resa diversa a seconda della lente, a seconda della luce, a seconda del filtro che stiamo usando, se stiamo usando un filtro, a seconda del sensore, a seconda di tante cose possiamo avere delle differenze anche notevoli. Quindi non è così scontato fare una buona esposizione guardando l'istogramma, però di una cosa possiamo essere sicuri. Se noi abbiamo dei picchi, quindi delle montagnette che si creano sulla destra e sulla sinistra che arrivano fino in cima, lì abbiamo una netta perdita di informazioni. Questa è la cosa che più di tutte vogliamo evitare. Nel momento in cui il nostro istogramma ha le informazioni concentrate nel mezzo, quindi non ha informazioni che si perdono da una parte o informazioni che si perdono dall'altra parte, quella probabilmente è una buona esposizione da cui partire. Poi ci sono tutta una serie di considerazioni da fare nel momento in cui stiamo andando a realizzare il nostro girato, perché a seconda della camera che stiamo usando e a seconda del risultato finale che vogliamo ottenere, noi possiamo decidere di esporre a destra o di esporre a sinistra. Questo che cosa significa? Banalmente possiamo decidere di sottoesporre o di sovraesporre la nostra ripresa in base all'effetto che vogliamo ottenere, perché se sappiamo già che la nostra ripresa sarà scura, facciamo l'esempio di quello che faccio io di solito, io faccio una ripresa così un po' crepuscolare, scura, quindi io tendo magari a sottoesporre un pochino, perché tanto so benissimo che non ci saranno luci brillanti nel mio video, sarà tutto un pochettino tenue, invece se sto facendo un matrimonio probabilmente tendo a sovraesporre, perché così avrò dei colori chiari, brillanti, avrò il contrasto giusto, gli skin tones giusti. Quindi ci vuole anche esperienza. Nel momento in cui esponiamo con l'istogramma, per quanto mi riguarda, la cosa importante a cui prestiamo attenzione è di non avere perdita di dettaglio, quindi dobbiamo evitare di avere dei picchi sia da una parte che dall'altra. Dobbiamo evitare i picchi, quindi i clipping di informazioni perse sia sulle alte luci sia sulle ombre. Vado ora a farvi un esempio molto banale così capite subito. Vedete che io mi sono tolto dai piedi e vedete che questa qui è la mia ripresa. Vedete che l'istogramma mi sta fondamentalmente dicendo che abbiamo solo toni scuri. Ci sono solamente toni scuri perché stiamo da questa parte. Ora io introduco la mia mano e vedete quel picco che sta venendo fuori? Quel picco è la mia mano. Ora io avvicino la mia mano e vedete che il picco si ingrandisce e vedete che adesso, adesso che ho riempito l'intera inquadratura con la mia mano, adesso ci sono solo o quasi solo mezzi toni. In questo momento ci sono esclusivamente mezzi toni. Questa potrebbe essere una buona esposizione perché non ho perdita di dettaglio né da una parte né dall'altra. Man mano che io mi avvicino, vedete che adesso torno ad avere il buio. Ecco, a questo punto ho chiaramente clipping e perdita di dettaglio perché la mia immagine è troppo buia e troppo scura. Man mano che io mi allontano, ok, così ancora potrebbe essere problematica. Così va bene, così è una buona esposizione. Quindi l'importante diciamo è che il grosso delle informazioni della mia esposizione sia più o meno in mezzo al mio istogramma. Così vedete che ho perdita di informazioni. Così è una buona esposizione. Andiamo nuovamente a introdurre una lucetta. Vedete che abbiamo una netta perdita di informazioni. Vedete che appena introduco la luce vedete che c'è un picco che cresce immediatamente perché comunque questa è una luce sparata diretta in camera e quindi ho subito una perdita di informazioni e un clipping. Quindi questa è la ripresa meno auspicabile in assoluto. Vedete perché qui abbiamo sia una perdita di informazioni sui neri sia una perdita di informazioni sui chiari. Invece nel momento in cui ho una ripresa bilanciata, come per esempio in questo caso, adesso io oriento la mia mano verso la luce così è ancora più bilanciata, questa è un'esposizione che dovrebbe essere abbastanza corretta perché non dovrei avere perdita di informazioni da nessuna parte. La cosa importante quando si espone utilizzando questo sistema è proprio questa, cercare di non avere perdita di informazioni, quindi di non avere clipping su nessuno dei due lati del nostro istogramma. Adesso mi concedo un piccolo tuffo, un escursus all'interno di software di post produzione per farvi vedere che l'istogramma c'è anche lì, ci riporta gli stessi dati e vi faccio vedere un po' meglio che cosa cambia, come possiamo modificarlo e come funziona e quindi di conseguenza come lo possiamo utilizzare ragionando per esporre correttamente le nostre riprese. Molto bene, eccoci qui all'interno di un software qualunque, in questo caso è Photoshop, siamo qui semplicemente per una piccola dimostrazione con l'istogramma, sì perché come potete vedere abbiamo un istogramma anche qui dentro, se non lo trovate ovviamente basta andare su finestra e istogramma ed eccolo qui che compare. Ora io vado a tirarlo fuori dalla sua finestra e lo metto qui così lo vediamo bene, eccolo qua. Come potete vedere qui abbiamo tutte le stesse informazioni che troviamo a display sulla nostra fotocamera o videocamera, se stessimo inquadrando questa scena queste sono le informazioni che vedremo sull'istogramma. Ve lo faccio vedere qui perché qui ho la possibilità di giocarci un pochettino meglio e di fare anche delle cose che invece a camera farei fatica a fare. Innanzitutto vi faccio vedere che cosa succede se io elimino le informazioni sul colore. Vedete, questo era il nostro istogramma con i colori, questo è il nostro istogramma senza i colori, quindi vedete che cambia, è diverso, è diverso in virtù del fatto che noi qui possiamo ancora fare delle modifiche e vedete che ogni modifica che faccio il mio istogramma si modifica lui stesso. Quindi l'istogramma che ci mostra i colori non è esattamente uguale a quello che ci mostra il bianco e nero perché stiamo parlando di colorimetria e di luminanza, sono due concetti lievemente diversi. Nel nostro caso la cosa più saggia da fare potrebbe essere quella di lavorare solamente sulla luminanza, infatti guardate che cosa andiamo a fare. Andiamo a creare un nuovo livello solid color, gli andiamo a dare una brightness del 50%, per cui è un grigio medio e dopodiché andiamo a dargli il metodo di fusione colore. In questa maniera come potete vedere abbiamo eliminato le informazioni sul colore. A questo punto io posso andare a intervenire qui sopra e vediamo la stessa cosa che vedremmo sull'istogramma della nostra fotocamera. Andiamo a vedere che se io aumento l'esposizione, vedete cosa succede nel mio istogramma, le informazioni si spostano tutte sulla destra. Se io vado a diminuire invece la mia esposizione, le informazioni si spostano sulla sinistra. Questo picco di informazioni si è spostato sulla sinistra. Andiamo a vedere che cosa succede se io sono molto malvagio con la mia immagine. Vedete che gran parte delle informazioni si sono spostate a destra e soprattutto qui abbiamo un warning perché qui abbiamo della perdita di informazioni abbastanza importante che è questa che vediamo qui ma anche nel cielo un po' dappertutto. Possiamo fare la stessa identica cosa anche dall'altra parte, quindi possiamo andare a essere molto violenti nel tranciare via tutte le informazioni che ci sono su questo lato e di nuovo qui non so se riuscite a vederla perché è una linea molto sottile ma abbiamo una linea che ci segnala che qui c'è perdita di informazioni. Ah tra l'altro quando utilizziamo le curve abbiamo qui una riproduzione del nostro istogramma iniziale per cui sappiamo che stiamo lavorando su un'immagine che ha la maggior parte delle informazioni in questo punto per cui io se vado a lavorare sull'esposizione in questo punto sarò molto incisivo. In quest'altro punto potrò lavorare sulle alte luci e qui ovviamente potrò lavorare sulle ombre, sui neri. L'istogramma è appunto organizzato in questo modo. Da questa parte a sinistra ci sono i neri, in questa parte centrale ci sono le ombre, sempre qui più o meno nel centro abbiamo i mezzi toni che tendono alle alte luci, qui abbiamo le alte luci e infine l'ultimo punto su cui andiamo a lavorare sono i bianchi. Quindi l'istogramma funziona nello stesso modo sia qui che sulla fotocamera. Ovviamente noi quello che dobbiamo fare quando esponiamo è cercare di evitare i picchi che ci possono dare perdita di segnale. Possiamo avere perdita di segnale nell'area completamente a destra o nell'area completamente a sinistra e avremo perdita di segnale nelle alte luci e nelle ombre. Questo è quello che noi dobbiamo cercare di evitare. Nel momento in cui abbiamo un istogramma come quello che vediamo qui, questo fondamentalmente è un buon istogramma perché ci sta, perché abbiamo un'equa distribuzione delle informazioni all'interno dello spettro dei mezzi toni, abbiamo pochi neri in realtà, potrei permettermi di aumentarli un pochino e abbiamo un lievissimo picco sulle alte luci ma poca cosa. Se andiamo a vedere l'immagine originale ci rendiamo conto che non è malvagia, nel senso che abbiamo un po' di neri qui, pochi, quindi potremmo aumentare un pochino i neri, quindi potremmo andare a abbassare un pochino l'istogramma in questo punto in modo da dargli un pochettino più di importanza sulle parti scure. Per quanto riguarda le parti chiare, qui abbiamo già un lievissimo picco che potremmo eventualmente andare a limare riducendo un pochino. Qui però vedete che qui c'è stata perdita di informazioni perché se io vado a recuperare non recupero nulla, per cui tanto vale che lo lasci lì a pelo perché tanto non recupero niente. Potrei aumentare un pochino i mezzi toni e ridurre un pochino gli highlights. Vedete dall'istogramma che quello che abbiamo ottenuto è un'immagine maggiormente contrastata. Più le informazioni si avvicinano a sinistra e a destra più il contrasto è alto. Ovviamente dobbiamo avvicinarci senza andare a clippare, ovvero senza avere montagne che si innalzano sui lati del nostro istogramma. Quella è la cosa assolutamente da evitare. Se rimaniamo all'interno dello spettro che siamo in grado di controllare non abbiamo grossa perdita di dettagli e la nostra immagine è fondamentalmente buona. Poi dipende dalla scena che abbiamo davanti perché qui è ovvio che se c'è il sole in ripresa avremo un picco sulle alte luci, così come è evidente che se abbiamo delle ombre molto pronunciate, come qui in questa siepe, avremo qualcosina magari che si perde nelle ombre. Però è accettabile perché direi che la stragrande maggioranza del nostro frame è esposta correttamente. Lo vediamo anche se la mettiamo in bianco e nero. Fondamentalmente non abbiamo perdita di dettaglio nel cielo se non in quest'angolino e qui dove c'è il sole non abbiamo perdita di dettaglio nelle ombre se non proprio qui negli angoli della siepe dove la luce non arrivava per niente. Quindi questa è un'esposizione che non è malvagia. Ovviamente è un file raw che è stato lavorato, quindi magari l'esposizione originale in camera non era altrettanto azzeccata, è stata un pochino recuperata e una volta che abbiamo il prodotto finito l'esposizione è corretta. L'istogramma ci mostra semplicemente questo. Ci mostra come mantenere la nostra esposizione in dei parametri che possiamo controllare. Ovviamente se noi avessimo voluto un'immagine molto chiara e molto brillante avremmo potuto cercare un istogramma di questo tipo con la maggior parte delle informazioni al centro e a destra. Proprio come se avessimo voluto un'immagine molto scura avremmo potuto cercare un istogramma di questo tipo con tantissime informazioni qui nei neri e nelle ombre e un po' meno informazioni al centro e nelle alte luci. Questo dipende unicamente dal tipo di ripresa che abbiamo di fronte e dal risultato finale che vogliamo ottenere. Ovviamente il consiglio che si dà di solito è di mantenere un istogramma equilibrato ma il vero consiglio da seguire ovviamente è di guardare la ripresa di guardare la scena che stiamo facendo perché l'istogramma mi può dare un dato tecnico mi può dire che la nostra ripresa sia tecnicamente corretta ma poi la creatività e le nostre intenzioni come fotografi e videomaker possono spaziare al di fuori delle regole quindi non fidatevi unicamente dell'istogramma quando fate l'esposizione guardate con i vostri occhi pensate alla scena che volete e cercate di realizzare quella piuttosto che di realizzare un istogramma perfetto perché un istogramma perfetto spesso e volentieri può risultare anche piatto quindi non fidatevi troppo dell'istogramma. Lo potete sicuramente utilizzare per stabilire se il vostro soggetto principale è esposto correttamente. Ora cambiamo immagine e vi faccio vedere nello specifico come si fa a stabilire se un'esposizione è corretta oppure no. Qui noi abbiamo un'immagine che è un estratto di un video che ho già pubblicato e noi sappiamo che l'esposizione in questa ripresa è corretta perché è stata fatta con molta perizia durante le fasi di ripresa è stata fatta esattamente come io la volevo per cui i toni della pelle sono come io li volevo sono un po' abbronzato per cui il fatto che io sia un po' rosso è assolutamente normale inoltre c'è una lucetta arancione su questo lato che mi conferisce uno skin tone un pochino più colorato rispetto al normale ma diciamo che è quello che volevo quindi è giusta così è come la volevo e quindi diciamo che questa è esposta correttamente come potete vedere l'istogramma che fra l'altro ho dimenticato di dirvelo può essere impostato anche molto semplicemente da qui su luminosity o su colors l'istogramma mi fa vedere tutto il frame però allora io che cosa faccio vado a selezionare una porzione che potrebbe essere nello specifico questa vado a prendere questa porzione escludo completamente lo sfondo prendo solamente skin tones da quelli un po chiari fino a quelli un pochino più scuri vado a dargli ok ok vediamo che l'istogramma è cambiato e prende in considerazione solamente la porzione di immagine che stiamo vedendo di cosa ci rendiamo conto che è fondamentalmente corretto perché abbiamo un pelino di perdita di dettagli nelle ombre che probabilmente sono qui è l'ombra è l'ombra del mio naso è l'ombra dentro nelle narici è poco poco il resto è tutto al centro abbiamo un bel picco verso le alte luci che probabilmente anzi sicuramente è la punta del mio naso e la mia tempia e abbiamo un pelino di perdita di dettaglio che è chiaramente la catch light all'interno delle mie iridi quindi questa è un'esposizione assolutamente corretta ora questo in che maniera ci aiuta a fare la stessa cosa con la nostra fotocamera videocamera beh è semplicissimo se noi stiamo esponendo per i toni della carnagione quello che facciamo è che ci avviciniamo con la nostra videocamera fino a inquadrare solamente un'area che contiene la carnagione della persona che stiamo inquadrando se noi inquadriamo un frammento come questo quindi prendiamo una porzione di alte luci e una porzione di ombre se è una luce split una luce lupo una rembrandt prendiamo un pochino di carnagione con diverse intensità di luce in maniera tale da avere una buona mappatura se il nostro istogramma ci dà una lettura corretta sopra un frame di questo tipo noi possiamo fare l'esposizione su questo frame dopodiché possiamo indietreggiare tornare a rimetterci dove eravamo con la nostra videocamera fare la nostra ripresa completa e ovviamente se lavoriamo in manuale perché se lavoriamo in automatico quando indietreggiamo poi legge tantissimi neri e quindi si va a reimpostare automaticamente ma se noi lavoriamo in manuale come io auspico facciamo l'esposizione sugli skin tones facciamo l'esposizione su quello che ci interessa perché magari non stiamo riprendendo una persona ma stiamo riprendendo un oggetto un palazzo un paesaggio facciamo l'esposizione su quello che vogliamo mantenere esposto correttamente e una volta fatta l'esposizione in manuale possiamo indietreggiare mantenendo fissi parametri avremo la nostra esposizione corretta questo è il metodo base che si usa di solito per fare l'esposizione con l'istogramma poi per esporre correttamente si può usare la carnagione umana ma così come si può usare anche un cartoncino con il grigio 18 per cento quindi se abbiamo dei cartoncini con il grigio medio piuttosto che altri ausili come un color checker e cose del genere possiamo ricorrere anche a quelli io ve lo faccio vedere sulla carnagione perché è più facile perché così non dovete comprare niente il metodo perfetto sarebbe però quello di usare il cartoncino con il grigio pesato al 18 per cento anche se poi bisogna andare a vedere nello specifico la videocamera che stiamo utilizzando perché alcune sono tarate su parametri diversi dal 18 per cento e altre sono customizzabili quindi anche lì bisogna andare a vedere diciamo che se impostate correttamente l'esposizione sopra al soggetto principale e lavorate in manuale dovreste anche ottenere un istogramma corretto una buona lettura su quella che è la luminosità della scena bene amici come avete potuto vedere siamo di nuovo qui in compagnia di eos r6 e eos r7 due camere con cui io mi trovo veramente veramente molto bene hanno magari questo difettuccio che non ti fanno vedere a monitor gli strumenti di esposizione durante la ripresa te li fanno vedere solo prima quindi devi avere le idee molto chiare fare la tua esposizione prima di cominciare a girare questo volendo è un difetto perché avere la possibilità di dirgli se la voglio vedere sempre o se deve scomparire durante la ripresa sarebbe un plus se qualcuno conosce il modo me lo faccia sapere in un commento qui sotto io ci ho provato ma non ci sono riuscito nelle impostazioni che ho trovato io semplicemente queste questi misuratori scompaiono quando si abilita la registrazione quindi se avete trovato un workaround per mantenerlo in sovraimpressione anche durante le riprese fatemelo sapere perché sono molto curioso detto questo io a questo punto vi ricordo che pubblico contenuti sempre più di frequente per cui se questo video ha colto il vostro interesse io vi invito a iscrivervi al canale il bottone qui sotto attivate anche la campanella lasciate anche un like a questo video perché sono sicuro che esporrete meglio le vostre riprese da oggi in poi amici questo è tutto io vi do appuntamento al prossimo video